Buongiorno, internazionale di Arezzo, speciale SIAIT, abbiamo con noi il presidente del club, la signora Sonia Pagani. Com'è andata oggi la speciale? Direi abbastanza bene, abbiamo avuto un buon numero di cani e alla fine sono venuti fuori tre cani, penso, migliori, insomma, molto in tipo, tutti abbastanza omogenei nel tipo. Bene, quindi si ritiene soddisfatto? Sì, direi di sì. Qualche consiglio agli espositori, ai toilettatori che portano a New Yorkshire? Allora, io l'unico consiglio che mi sento di dare è che tutti devono migliorare la presentazione del cane nell'esposizione, soprattutto nello standing, cioè quando sono i cani per terra, in pratica, devono saperli piazzare, presentare. La toilettatura non si può dire niente perché tutti hanno imparato a farla, ma nella presentazione ci sono ancora molte lacune che secondo me vanno colmate. Ok, la ringrazio e arrivederci.